La Regione Puglia sarebbe, secondo il Tribunale di Trani, responsabile di non aver mai rescisso il contratto di servizio né effettuato segnalazioni alcune al Ministero dei Trasporti consentendo il protrarsi della concessione a un soggetto rivelatosi poi inaffidabile nonostante i pericolati, ovvero incidenti mancati verificatisi dal 2003 al 2015. È con questa motivazione che il collegio giudicante presieduto dalla dottoressa Giulia Pavese nell'udienza di ieri ha deciso di ammettere tra i responsabili civili la Regione nell'ambito del processo sulla tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016 con lo scontro di due treni della ferrotranviaria che provocò la morte di 23 persone ed il ferimento di altre 50. Secondo la motivazione del Tribunale contenuta nell'ordinanza retta ieri, l'ente pubblico avrebbe omesso colpevolmente l'adozione delle cautele e il controllo dell'attività della concessionaria, in questo caso ferrotranviaria, che è già citata assieme al Ministero in qualità di responsabile civile. La richiesta di citazione della Regione quale responsabile civile era stata rigettata dal gruppo Angela Schirali, lo ricordiamo, in fase di udienza preliminare, rilevando come la posizione di parte civile della Regione Puglia fosse inconciliabile con quella di responsabile civile e non potendo ovviamente nello stesso processo assumere la qualità di attore è convenuto. Il Tribunale collegiale con l'ordinanza di ieri ha invece sostenuto che la legittimazione dell'azione civile nel processo penale nei confronti dell'imputato spetta a chiunque il reato abbia recato danno e considerato che da un identico fattoreato può discendere la lesione di una pluralità di posizioni giuridicamente rilevanti e deve necessariamente ritenersi che il doppio ruolo di parte civile e responsabile civile possa coesistere in capo a un medesimo soggetto e con medesimo fattoreato. Durante la terza udienza del processo dunque sono state ammesse anche le costituzioni di parte civile di altri parenti delle vittime di due dipendenti di ferrotranviaria nonché delle associazioni Codacons, Confu Consumatori, UBF e GEPA ammesse inoltre le costituzioni di parte civile per alcuni parenti delle vittime dei comuni di Corato e andre delle associazioni nei confronti di ferrotranviaria SPA, istanza anche questa rigettata dal GUP durante l'udienza preliminare, rigettata invece ieri dal tribunale la richiesta di citare anche l'Ustif quale responsabile civile, mentre è stata considerata fuori termine la richiesta dell'ADOC presentata solo nella giornata di ieri di costituirsi parte civile. Il processo è stato invece aggiornato al 6 giugno prossimo.